Con Vince McMahon al comando creativo della WWE avremmo avuto un War Games Match o più di uno alle Survivor Series? Probabilmente no. A dircelo è Road Dogg Jesse James che in un podcast ha svelato come Triple H avesse già proposto una battaglia di questo tipo a McMahon nel 2019, ricevendo però un secco rifiuto. Come mai? Beh, secondo Vince, questa idea, questa trovata, la doppia gabbia, questa struttura così imponente e importante, in calendario sarebbe finita troppo vicina ad Elin e Sel e se poi si fosse perpetuata, un evento avrebbe fatto ombra all'altro. Stando a Vince dovevano essere distanziati, non potevano stare così vicini. Secondo lui c'era un conflitto di visibilità. E allora, niente, tutto accantonato e Triple H ha dovuto attendere qualche anno prima di poter avere le mani libere e agire secondo la sua volontà. Tra l'altro, ragazzi, Survivor Series War Games, questo è il mio profilo su Twitch, Michele Posa, noi ce lo gustiamo in live reaction, in diretta, tra sabato e domenica notte. Se vi va, godetevelo insieme a me e al staff, al gruppo di ragazzi che mi dà una mano. Tra l'altro, vi ricordo che invece qua su YouTube c'è anche il profilo che state vedendo. Michele Posa, Rewind, dove pubblico i migliori contenuti di Twitch e al martedì e al giovedì, in entrambi i casi, alle 18.30, c'è una diretta. Quindi live anche su YouTube, su questo canale che state vedendo. Se non lo sapevate, ora lo sapete, quindi correte ad iscrivervi e poi se siete liberi vi aspetto al martedì e al giovedì, alle 18.30. Andiamo avanti. Allora, questo è un tweet di Rob Downey, che è l'artista che ha aiutato Nicky Esch, oggi Nicky Cross, a ideare il personaggio della quasi super eroina. E questo artista, questo disegnatore, un po' su Twitter si lamenta dicendo che in tanti lo hanno criticato e lo stanno criticando, perché non hanno gradito questo alter ego, non lo hanno sopportato, lo hanno mal digerito. D'altronde i social sono una tribuna che va per i fatti suoi e può accadere di tutto. Però attenzione alla difesa della lottatrice, che sostiene una cosa importante. Dice, magari a qualcuno non sarà piaciuto il personaggio della quasi super eroina. Però intanto ho vinto il Money in the Bank. Sono diventata campionessa femminile di Raw e sono stata la prima a vincere per tre volte i titoli tech team femminili. Oltre a numerose affermazioni come campionessa 24x7. In più, tantissimi bambini hanno adorato la super eroina, o quasi. Si sono vestiti come lei. L'hanno resa qualcosa di proprio, di loro. E tutto questo mi ha scaldato il cuore. Quindi è vero, personaggio sicuramente criticabile. O ad altezza bimbo. Però ha cambiato radicalmente la carriera a breve termine, a lungo ancora non lo sappiamo, di chi lo ha interpretato. Che, magari, a questi traguardi che ha elencato non ci sarebbe arrivata senza il mantello e il costume. Continuiamo sul cambio di personaggi perché a parlare è Raquel Rodriguez. Anche lei ha subito varie trasformazioni, ma non le dispiace il nome finale che le hanno dato nei roster principali. Dice, quando ho iniziato la carriera a NXT mi chiamavo Reina. Poi sono diventata Raquel Gonzalez. E Gonzalez è il mio vero cognome. E poi, la metamorfosi si è conclusa con Raquel Rodriguez. Probabilmente lo hanno fatto per avere la proprietà del nome. Se avessero usato nome e cognome veri o anche solo il cognome vero, poi, un domani, lei, magari uscendo dalla WWE, avrebbe potuto capitalizzare su quest'ultimo. Ci sarebbero magari stati dei problemi a livello di trademark o di copyright. Dice però, Raquel, l'importante per me era che non venisse meno il mio heritage ispanico. Quindi le mie radici ispaniche. Perché desidero e desideravo rappresentarle in maniera forte. E questo la WWE non gliel'ha tolto. Sempre in tema femminile, attenzione, notizia di qualche ora fa. Rhea Ripley combatterà Aro il suo primo match ufficiale televisivo dal 6 di giugno. E il match sarà molto, molto importante perché se la vedrà con Asuka per decidere quale team avrà il vantaggio nei World Games. e tra l'altro questo testa a testa mi affascina, mi intriga non poco. Davvero. È un bel un bel piatto questo, però, eh. Tra l'altro, amici, c'è anche il Black Friday in avvicinamento, gli sconti e tutto quanto. Vi ricordo che se acquistate dalla mia pagina Amazon, partendo da qua, quindi qui fate le ricerche, mettete le cose in carrello e poi comprate, a voi non cambia niente, ma sostenete la mia attività social, visto che sulla base di quello che acquistate a me arriva una piccola commissione. Il link per raggiungere questa pagina lo trovate in descrizione a tutti i miei video ed è un modo per sostenere la mia attività social senza spendere ulteriori soldi rispetto a quelli che già state sborsando. quindi è una modalità passiva che vi costa soltanto 10 secondi del vostro tempo. Andiamo avanti perché c'erano report su un Kevin Owens con il ginocchio a pezzi, con delle difficoltà motorie e invece nell'ultima puntata di SmackDown lo abbiamo visto in scena e ormai sappiamo che la Survivor Series sarà tra i protagonisti e poi ha combattuto anche in un dark match, quindi in una sfida a fruizione esclusiva del pubblico presente nell'arena contro Austin Theory in uno street fight. C'è quindi la sensazione che o il suo infortunio al ginocchio sia meno grave del previsto o ancora che i report su una sua scarsa mobilità fossero sbagliati o ancora che l'atleta stringerà i denti e malgrado le noie e i problemi non perderà perlomeno questo evento che ormai è dietro l'angolo e poi verrà nuovamente valutato e si deciderà il cosa fare. Nel frattempo Sasha Banks che stando ad alcuni siti avreva già firmato con WWE questa estate in realtà sta facendo mille altre cose e tra queste c'è anche un nuovo tatuaggio eccolo qui direi che è una mongolfiera sembra una mongolfiera per keep flying per continuare a volare chiudiamo con un episodio strano bizzarro ma comprensibile io avevo un gatto una gatta tanti anni fa avevo una famiglia di gatti ma di gatta c'era solo lei che era la nonna e quando lavoravo per Sky vivevo lontano da casa a colonio monzese tutta la settimana avevamo anche un canale solo di wrestling e tornavo a casa il venerdì io non so dirvi come ma la gatta sapeva che era venerdì passava mio padre a prendermi colonio monzese in periferia di Milano mi prendeva dopo il turno a Sky verso le 5 si tornava a casa in auto e rincasavamo verso le 6 e mezza a sbarra 7 di sera a seconda del traffico o la gatta sapeva che era venerdì sapeva che io sarei arrivato più o meno a quell'ora si appostava sul muretto all'esterno della mia dimora e quando arrivavo faceva la casellante cioè non potevo entrare nel mio domicilio se prima non mi fermavo almeno un quarto d'ora ad accarezzarla ma mi si strusciava in tutti i modi e se cercavo di allontanarmi con le unghie mi prendeva e mi riavvicinava a sé ecco ad Alexa Bliss è successa la stessa cosa è tornata a casa dopo 20 giorni di assenza solo che lei non ha una gatta lei ha dei cani e i cani vedendola tornare a casa tra l'altro si è fermata solo 8 ore la vita del wrestler a volte è assolutamente raminga e zingaresca quindi i cani che non la vedevano da 20 giorni ovviamente ha chi li raggiunge per rifocillarli per pulire le loro zone per portarli a spasso eccetera ecco i cani l'hanno assalita ma assalita in modo bonario per farle festa come faceva il gatto con me ma erano talmente eccitati nel rivederla che praticamente le hanno procurato un taglio alle labbra cioè è incredibile erano talmente gasati che non sono riusciti a fermarsi il loro entusiasmo è stato straripante quindi queste otto ore di ritorno a casa per Alexa Bliss la vediamo con gli occhi lucidi qua quasi sta quasi piangendo si vede proprio il segno delle lacrime sembrerebbe nella felicità di rivederla e di poter stare di nuovo con lei le hanno procurato questo taglio a volte è la vita ovviamente non l'hanno fatto con cattiveria o malizia ma si è trattata di una casualità assolutamente imprevedibile e vabbè Alexa chissà magari questa cosa che ti è successa speriamo che accumuli un debito con la fortuna e boh te la butto lì magari diventi la ragazza decisiva le Survivor Series eh sarebbe bello e staremo a vedere intanto direi che ho terminato con la rassegna stampa e quindi vi invito come al solito a commentare tutte le news che vi ho fornito qui sotto nello spazio a voi dedicato